La polizia francese è dovuta intervenire in Alsazia per sedare una protesta di un centinaio di persone contro la visita presidenziale. Il gruppo attendeva l'arrivo di Emmanuel Macron davanti al municipio di Mütterscholz, nel nord-est del paese, per mostrare ancora una volta al capo dello Stato la propria avversione all'allungamento dell'età pensionabile. Le forze dell'ordine sono riuscite a respingere i manifestanti. Giovedì è prevista una visita del presidente in una scuola nel sud del paese, dove già sono state organizzate proteste. Grazie.